Ciao sono Duke, siamo su Scrolls, avevo annunciato che volevo recuperare un po' questi giochi che magari non seguono tutti però hanno una fetta di appassionati che per quanto ristretta è molto fedele e mi dispiaceva abbandonare così un gioco a cui comunque ho dedicato un certo tempo anche se magari non sono uno dei giocatori più assidui. Oggi sto giocando con il mio mazzo Energy però basato sulle creature quindi non è un mazzo Strutture ed è un po' un mazzo magari non fortissimo nel meta attuale perché mentre il mazzo Energy Strutture se la cava abbastanza bene contro Decay che è il mazzo che spopola al momento, il più forte, questo con le creature è meno forte quindi non è la scelta migliore. Però se non è capitato contro una Wolfetone, contro Wolfetone con Order, vediamo come andrà, contro Order mi sono sempre molto utili le rimozioni. Ah guarda che stupido, non ho nemmeno passato il turno intanto che parlavo. Ed è un po' che non gioco a Scrolls, sto giocando un po' a Might and Magic Duells of Champions, che devo dire che non è un gioco così male. Il problema di quel gioco è che forse è un pochino troppo basato sulla necessità di acquistare le cose con soldi veri. Intendo che ad esempio qua in Scrolls si può giocare benissimo comprando il gioco e poi non mettendoci più un euro. Quell'altro gioco invece è vero, è gratuito, quindi assolutamente gratuito inizialmente, però poi bisogna un attimo spendere se si vuole avere subito un mazzo competitivo. Altrimenti bisogna andare avanti a giocare un po' così con mazzi da media mediocri e poi finalmente farcela. Sto commentando live, come avrete capito dal fatto che la velocità dei gioco è normale, perché è così che mi era stato chiesto. Anche se secondo me questo modo di commentare non è adattissimo a Scrolls perché è un gioco abbastanza lento. Poi dopo quando c'è magari bisogno di pensare devo stare in silenzio. Addirittura che fortuna. Effettivamente non pensavo fosse necessario proteggere il mio il mio copper automaton. Lo avevo messo dietro il dust runner. Come non detto a quanto pare serviva. Poi non so se ne varse la pena per lui perché il suo duca l'infantelman morirà comunque. Però contento lui, contenti tutti direi. Mettiamo qua al centro la mia automata forge e passiamo. Normalmente non la metterei al centro, normalmente la metterei qua in basso. Però oggi sono in vena di cercare un confronto più diretto e cercare di guadagnare subito la posizione centrale. Ha usato poter. Per allontanarsi e sopravvivere. Ma lui non sa che io mi sto tenendo il burn apposta per riprendere un minimo di vantaggio carte. Iron whip, una carta che mi piace, ma sono sempre un po' in dubbio se tenerlo o meno. Allora, ora devo giocare per forza, devo sacrificare per forza, per risorse, per poter usare il burn. Bene. E niente, attacchiamo. Devo cercare di non ridurmi come sempre ad avere una o due carte in mano, ci sono già, perché è una situazione che non mi piace affatto. Voglio tenere un discreto vantaggio carte, non voglio ridurmi a situazioni fastidiose in cui sono a rischio con le carte. Allora, contro order è forte lo storm runner, che è questa creatura che fa danno come fanno danno ad alcune strutture. Insomma, fa danno ad area. Quindi potrei anche giocarle, in effetti. Ho un po' paura, allora se lo metto qui, questo qui, lui dopo potrebbe giocare uno speed e uccidermelo, però uno speed a questo punto del gioco, sono contento di farglielo sprecare. E mettiamo questo qua dietro. Ok, passiamo al turno. Con speed in realtà intendevo non necessariamente lo speed, anche il blessing of faith, comunque una carta che riduca il countdown. Sono contento se li usa, le carte che riducono il countdown, perché mi fa, eccolo qua, mi fa molta paura le combo che ha order, in cui utilizzi speed su una carta, magari il generale onorevole, quella da, quella sottrae il danno, il countdown ad altre carte che ha attorno, eccetera, eccetera. Allora si crea una reazione catena dove alla fine io muoio e non mi entusiasma, diciamo, morire di solito. Allora qua abbiamo una combo abbastanza interessante che possiamo fare e questa non sono nemmeno sicuro che abbia senso farla, però è talmente bella da fare che la devo fare per forza. Prima trasformiamo questo in un 6-2 con Machinated che aumenta di 5 il danno e poi gli facciamo fare Concentrate Fire che fa attaccare due volte la creatura con attacco a distanza e giusto per farlo un po' arrabbiare gli facciamo saltare tutto. Spero che sia stato bello per te. Addio. E ora quitta. Ah, qua siamo in testing ground. Siamo in testing ground, il che vuol dire che c'è solo 60 secondi per pensare e gli idoli di vita hanno solo 8 di vita. Fra non molto dovrebbe uscire una nuova patch in cui... Una nuova patch in cui... Scusate un attimo, devo pensare qua a cosa fare. Mi dispiace sempre a scartare Spark perché mi sta simpatica, però in questo caso devo fare quello che ho detto prima, non voglio trovarmi in una situazione con poche... Poche carte in mano. Qua non va così male, dai. Paghiamo 3 di energia. Qua potrei utilizzare senza dubbio un... Il bombard. Utilizzando il bombard, fare saltare l'idolo centrale. Però siamo in una fase iniziale della partita, non voglio puntare subito agli idoli, anche se qua in testing ground non è una mossa così stupida. Voglio cercare di mantenere un vantaggio sul campo. E poi preferisco far attaccare due volte di seguito. Aspettare nel senso che attacchi ancora una volta al dust runner e poi il turno dopo subito rigiocare bombard, che fa abbastanza paura. Oh mio dio, fleetness. Fleetness a me piace come carta. C'era stato un dibattito su un forum che frequento, se sia meglio fleetness o tempo theft, secondo me è meglio fleetness. Però, cioè, ci sono ragioni sensate per entrambe le cose. Certo che ora che ne ho due di bombard, io quasi quasi le gioco e lo spavento un po', perché con due bombard posso fargli saltare due idoli sostanzialmente. E' un po' un rischio quello che ho fatto, di mettere, di scartare un violent dispersal, però bisogna rischiare. Bisogna rischiare. Quello attacca 3, allora mettiamolo qua. Non so bene che scelto ho fatto qui, mi stava scadendo il tempo. Qua con solo 60 secondi, commentare e anche decidere cosa fare non è la cosa più facile del mondo. Speravo che quel cannon automaton sponasse da questo lato, ma non ce l'ho fatta. Avrei potuto costringerlo mettendo di là il mio dust runner, però avrei sacrificato il dust runner così. Ok, qua è arrivato il Wings Capitain. Carta molto forte che nella prossima patch dovrebbe venire nerfata, quanto dicono. Adesso non so più cosa distruggere. Allora, questo 5, 6. Fa 6, non 7. Questo lo metto qui. Questo lo metto qui. Questo lo metto qui. Sto un po', come avete capito, puntando a distruggere gli idoli. Invece che fare quello che avevo detto che avrei voluto fare. Perché sono una brutta persona. Allora, non so davvero cosa fare, aiuto. 5 secondi! 5 secondi! Non sono riuscito a giocare Bombard. Non sono riuscito a giocare Bombard. Perché devo essere così scarso. Vabbè, dai, non importa. Forse è anche meglio così. Forse è stato un bene che io non sia riuscito a giocarlo. Il prossimo turno. Vediamo. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Se non metta niente davanti, ho vinto il prossimo turno. Già a round 10. Vediamo se... Magari è... Lui è convinto di star vincendo lui. Invece ora fa una mossa sensata. Sarebbe mettere Blessing of Faith sul Wings Capitan. Aumenta la quantità di movimento che può fare il Royal Skirmisher. E così me lo può mettere davanti. E mettere davanti, non mettere in quel posto. Invece no. È il mio turno e abbiamo vinto. Vediamo. Ho sbagliato o davvero ho vinto. Questo va qui. 6, 6, e 3. Si dice GG. E si saluta tutti quanti. E si saluta tutti quanti.